Le formule chimiche. Per rappresentare i composti organici si possono usare tre differenti tipi di formula, la formula bruta, la formula razionale, la formula strutturale. La formula bruta indica quali elementi chimici e quanti atomi di ciascuno di questi formano la molecola rappresentata. Per esempio, la formula bruta dell'etano è C2H6, cioè la molecola di etano è formata da due atomi di carbonio, C2, e da sei atomi di idrogeno, H6. La formula razionale indica i gruppi funzionali e quali legami tengono uniti fra loro gli atomi di carbonio, C. Per esempio, la formula razionale dell'etano è CH3CH3, cioè nella molecola di etano ciascun atomo di carbonio, C, è unito a tre atomi di idrogeno, H3, ed i due atomi di carbonio sono uniti da un legame semplice. La formula strutturale rappresenta la posizione dei vari atomi ed usa dei segmenti per rappresentare i legami. Per esempio, la formula strutturale dell'etano fa vedere che i due atomi di carbonio sono uniti direttamente, tramite un legame semplice, e che ciascun atomo di carbonio è unito a sua volta a tre atomi di idrogeno, tramite legami semplici. I gruppi funzionali sono gruppi di atomi di una molecola, i quali sono responsabili della reattività della molecola e determinano le proprietà chimiche di questa.